direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 21 agosto il jackpot ha raggiunto la cifra di 70 milioni 602 mila 549 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna con l'autorizzazione della commissione di controllo di amorel via l'estrazione del concorso numero 100 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 59 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 86 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 8 pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 19 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 90 è il momento di incorciare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 35 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 33 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly 59 86 8 19 90 35 numero jolly 33 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che nominando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite su prena l'otto fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 53 ricontrolliamo ora tutti i numeri estratti del concorso numero 100 in ordine crescente 8 19 35 59 86 90 numero jolly 33 numero superstar 53 l'estrazione di oggi sabato 21 agosto termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 70 milioni 600 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 100 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del superenalotto assegna 513.589 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 70 milioni 600 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di superenalotto non è stato realizzato e jackpot cresce ancora per arrivare a 71 milioni 300 mila euro abbiamo però una vincita con punti 5 più 1 realizzata nella ricevitoria sisal di via portaronca 54 a ro in provincia di milano vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 il 5 più 1 si aggiudica 589.342 euro i 5 sono 20 e vincono 9520 euro ciascuno i 4 sono 909 e vincono 219 euro ciascuno i 3 sono 31.399 e vincono 18 euro ciascuno i 2 sono 444.957 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 14.106 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 7 e vincono 21.903 euro ciascuno i 3 stella sono 158 e vincono 1875 euro ciascuno 100 euro vanno invece ai 2031 due stella 10 euro agli 11.541 una stella e 5 euro ai 22.566 zero stella vi ringrazio per essere stati con noi Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 24 agosto giocheremo per un jackpot di 71.300.000 euro arrivederci a presto